Il bacino è un punto importantissimo del nostro corpo che connette le gambe che rappresentano la terra con il resto del corpo. Il bacino è dotato di grande mobilità. È qui che troviamo il nostro secondo chakra, un centro energetico così importante che è connesso ai nostri desideri più autentici e puri. Non a caso l'elemento che rappresenta il secondo chakra è l'elemento dell'acqua, che ci ricorda la fluidità, la capacità di adattarci e l'essere puri. È qui che impariamo a rispettare appunto i nostri desideri, permettendo a questi desideri o emozioni di esprimersi nel loro pieno potenziale. Oggi andiamo a lavorare su questo centro energetico molto importante con delle posizioni che ti aiuteranno ad aprire e sciogliere le tue anche. Se sei pronto raggiungimi in Balasana, la nostra prima posizione di oggi e per questa pratica ti servirà un cuscino se vuoi essere un po' più comodo. Infiala il cuscino qui tra le tue gambe e andiamo a divaricare le gambe in modo da avere le ginocchia un po' più aperte rispetto alla larghezza del bacino e qui ci rilassiamo lentamente verso il basso. Puoi utilizzare le mani come un cuscinetto sotto la fronte mentre il corpo si rilassa in questa dolcissima posizione iniziale. Qui puoi iniziare ad osservare il ritmo dei tuoi respiri, queste onde che entrano ed escono dal naso e ti aiutano a massaggiare il corpo, a rilassarlo dall'interno. Porta particolare attenzione alla zona del bacino e alla zona bassa della tua schiena e osserva se in questo momento senti particolari tensioni o blocchi. Immagina una dolce energia fluida che scorre proprio in questo punto del corpo, un'energia che ti permette di ammorbidirti e rilassarti un po' di più, di sciogliere ogni tensione come neve che si scioglie al sole. Rilassati osservando anche quali sono i cambiamenti che hai affrontato in questo periodo, qual è stato il flusso di eventi che ti ha portato qui. Osserva se sei stato in grado di connetterti a questo flusso di cambiamento oppure se hai remato contro, magari aggrappandoti a qualcosa che in realtà non ti serviva particolarmente. Qui datti l'opportunità di imparare a fluire, adattarti, trasformarti in modo da poter esprimere il tuo vero potenziale in ogni aspetto della tua vita. Usciamo da questa dolce posizione iniziando a ritornare su e qui riavvicineremo leggermente le gambe per fare un bel passo avanti con il nostro piede destro che arriva all'esterno della mano destra. Entriamo in una rotazione esterna della nostra gamba in modo da ammorbidire tutta la fascia dell'anca e qui ovviamente puoi sentirti libero di entrare in una torsione un pochino più profonda appoggiando il gomito o la mano sul ginocchio per spingerlo leggermente verso l'esterno. Respira magari guardando in direzione del ginocchio oppure verso il muro dietro di te e rilassati qui davvero a fondo. Visto che il bacino è legato al secondo chakra e all'elemento dell'acqua, oggi sentiti libero di muoverti come se fossi sott'acqua. Se ci pensiamo il nostro corpo in realtà è composto principalmente d'acqua, quindi questo è un elemento davvero fondamentale per noi, è un elemento che ci rappresenta profondamente. Dondola da un lato all'altro, lascia andare ogni resistenza, ogni tensione, ogni punto rigido. E se vuoi provare ad andare un po' più a fondo qui puoi anche spostare il cuscino qui davanti a te e lo portiamo qui sotto i gomiti per rilassarci un pochino di più per gli ultimi secondi. Fai cadere la testa pesante mentre le anche si rilassano ancora di più e inspira a fondo. Butta fuori tutta l'aria. Inizieremo ad uscire da questa posizione riposizionando le mani a terra e qui andiamo a spostare la nostra gamba destra dietro alla sinistra. Creeremo un po' di spazio qui dietro, quindi apriremo la posizione delle nostre gambe e dei nostri piedi e andiamo a sederci all'indietro in quello spazio che abbiamo appena creato. Ovvio se questo fosse troppo intenso puoi sempre infilare un cuscino lì sotto e andrà già molto meglio, te l'assicuro. Da qui di nuovo puoi iniziare a fletterti in avanti. È una posizione molto profonda per i glutei questa, quindi falla con cautela e respira durante tutto il tempo. Rilassa la tua testa e di nuovo connettiti all'energia dell'acqua, a questo elemento così puro, così adattabile. Se vuoi puoi dondolare da un lato all'altro, cullato da queste onde di energia che ti accompagnano sempre più a fondo. Prova ad osservare cosa puoi lasciare andare in questo momento. Prova ad osservare anche quali sono i tuoi sogni più profondi, quelli che a volte passano inosservati o che tendiamo un po' magari ad ignorare o mettere da parte. Un altro respiro, magari a questo punto i gomiti saranno vicini a terra, la testa vicina alle ginocchia. E poi sempre con controllo e calma usciamo da qui, ci riposizioniamo a quattro zampe e andiamo a spostare la posizione dall'altro lato con un bel passo avanti dal piede sinistro all'esterno della mano. Entriamo di nuovo nella nostra rotazione esterna della gamba in modo da agire un po' di più sulla fascia del gluteo e qui eventualmente possiamo spingere con la mano o col gomito sul ginocchio per andare ancora più a fondo. Rilassati, ammorbidisci, sentiti libero di dondolare da un lato all'altro o di seguire comunque il tuo intuito, ciò che ti fa stare bene. E qui ricordati che questa pratica è dedicata a te, al connetterti ai tuoi desideri più autentici e puri e al farlo senza giudizio, senza giudicarti. Se qui senti che il corpo è abbastanza sciolto e vuoi provare ad andare un po' più a fondo, questo è un buon momento per portare i gomiti sul tuo cuscino, per rilassare poi la testa verso il basso. Restiamo qui ancora per qualche istante, ammorbidendo bene la schiena, le anche. Ci concentriamo specialmente su quei punti del corpo che magari fanno un po' più fatica a rilassarsi e cerchiamo di ammorbidirli a fondo. Poi un altro respiro e ritorniamo con le mani a terra. Andiamo a spostare la nostra gamba sinistra dietro alla destra. Apriamo lo spazio tra le nostre gambe e i nostri piedi in modo da disegnare una sorta di triangolo lì dietro e con controllo ci sediamo proprio lì, in quello spazio. Ti ricordo che puoi utilizzare ovviamente dei cuscini o un mattoncino lì sotto se ne avessi bisogno. E così piano scendiamo in avanti e iniziamo a connetterci ancora di più a quella sensazione fluida e morbida che viene proprio dal nostro bacino, dal nostro secondo chakra. Osserva il tuo respiro come un'onda dolce che ti accompagna sempre più a fondo. prova a chiederti se in generale nella tua vita stai onorando e rispettando i tuoi desideri, se stai dando spazio ai tuoi desideri, ai tuoi sogni, oppure se li stai reprimendo, magari andando un po' controcorrente. rilassati un po' di più. Cerca davvero di ascoltarti, magari immaginando questo vortice energetico attorno alla fascia delle anche, un'energia che ti permette di rilassarti un po' più a fondo. con un altro bel respiro ritorniamo su. sciogliamo la posizione delle nostre gambe e da qui, puntando i piedi, andiamo a sollevare le ginocchia per fare due passi all'esterno delle nostre mani, arrivando in malasana, il nostro squat profondo. Le mani arrivano in preghiera davanti al cuore ed è qui che puoi crescere lunghissimo con la schiena, cercando di aprire bene le ginocchia, di creare spazio lì nel tuo bacino, magari anche dondolando da un lato all'altro, se ti va. Puoi immaginare il bacino come questo vaso pieno d'acqua. Ci lasciamo cullare dolcemente. Sentiamo la nostra capacità di cambiare, di adattarci, di evolverci, di seguire i nostri desideri, di connetterci al nostro vero potenziale. Questo è un invito al non reprimere, ma all'accogliere, al farlo in modo puro, autentico. Da qui ora andiamo a posizionare il cuscino sotto di noi e lentamente riportiamo le mani a terra, appoggiamo le ginocchia a terra e iniziamo ad allargare le nostre gambe il più possibile, arrivando nella posizione della rana Mandukasana. Ti puoi appoggiare sul cuscino, ti puoi appoggiare sui gomiti e lentamente andiamo a sciogliere davvero le anche. In questo caso le ginocchia e il bacino sono più o meno sulla stessa linea, così come il ginocchio e il piede. Se qui tutto ok puoi rilassarti portando la fronte giù a terra o sulle tue braccia. E ancora lascia che questo sia un invito all'aprirti, all'accogliere, al portare energia pura verso i tuoi sogni. Puoi immaginare il tuo bacino che si apre come un fiore di loto meraviglioso, questa energia di un colore arancione, caldo e accogliente. E' qui che coltiviamo la nostra introspezione, il nostro ascolto e sguardo rivolti verso l'interno. Insieme facciamo un ultimo respiro, poi lentamente usciamo da qui. Riportiamo le mani a terra, ci risolleviamo, riavviciniamo le nostre gambe una all'altra, e magari dondoliamo col bacino da un lato all'altro, comodi e morbidi. Con calma ora scendiamo a terra e ci sdraiamo per qualche istante sul nostro tappetino. Puoi portare il cuscino sotto le gambe se vuoi essere un po' più comodo oggi. E qui respira. Visualizza l'aria che riempie i polmoni. Questa energia che raggiunge i punti profondi del tuo bacino e della tua schiena. E come quei punti che sembravano solidi, compatti, bloccati, iniziano a diventare liquidi, morbidi e fluidi. In questo momento non ci sono tensioni. Non ci sono blocchi. Non ci sono limiti. Lasciati cullare da questo momento così speciale dove sei in piena connessione con te stesso. E' come tuffarsi nelle profondità del nostro essere per riscoprirci. Per ritrovare quei tesori che magari avevamo perso un po' di vista. I nostri sogni. Facciamo ancora un respiro pieno di gratitudine e energia nuova. Immaginando questa energia attorno alle anche e al bacino. Poi piano muoviamo le dita delle mani, dei piedi. Iniziamo a risvegliarci nel modo più dolce e naturale possibile. E' ovvio puoi rimanere qui un po' più a lungo se ne hai bisogno. Oppure puoi iniziare a risalire insieme a me. Saliamo lentamente, magari incrociando le gambe una davanti all'altra. Rilassa le mani sulle ginocchia. Rilassa le tue anche. E immaginati seduto su un bellissimo fiore di loto. Un fiore che galleggia sulle tue acque interiori. Questo fiore ti sta portando verso i tuoi sogni. I tuoi desideri autentici. Col prossimo respiro unisci le mani in preghiera al cuore. E qui io ti ringrazio per il viaggio che abbiamo fatto insieme. Namaste. Il secondo chakra è il nostro bacino. Sono centri molto importanti sia a livello fisico che energetico. Come ti dicevo è proprio qui che impariamo a riconnetterci un pochino anche a quei sogni che tendiamo a mettere un po' da parte. È ovvio la vita quotidiana spesso ci porta lontani dai nostri desideri. Abbiamo cose concrete e imminenti a cui dobbiamo pensare. Ma lascia che questa pratica sia un dolce modo per ritornare a te stesso. Ricordarti che i tuoi sogni sono importanti. Ed è proprio così che portiamo voce ai nostri desideri e ai nostri sogni accogliendoli di nuovo. Grazie ancora per esserti lasciato guidare in questa pratica e noi come sempre ci vediamo presto sul tappetino per una nuova lezione insieme. Namaste. In Kayoga, la mia scuola di yoga online, ci sono tantissime lezioni, molte delle quali anche dedicate ai chakra, dei percorsi completi che ti aiuteranno a riconnetterti a te stesso. È un vero e proprio viaggio interiore. Ti lascio un link qui sotto con tutte le informazioni e un piccolo sconto per te. Ci vediamo presto sul tappetino.